dal Marchese del Prete di Venafro dove sta per cominciare la 26esima giornata del campionato di eccellenza appunto tra Venafro e Campobasso prova a prolungare in avanti il pallone Lombari per Tordella, Tordella uno contro uno riesce ad arrivare il pallone in mezzo la conclusione di Lombari col destro raso terra di incrociare il primo brivido Tordella la sfizzata di testa a cercare Lombari riparte poi direttamente da Roncone attenzione Ripa anticipa l'uomo, la porta è sguarnita, Ciccio Ripa, due uomini in area di rigore ancora Ripa la mette dentro, Lombari che cosa ha salvato, che cosa ha salvato la retroguardia, la testa e la traversone lungo sul secondo palo c'è, Ciccio Ripa la testa la traversa di Ripa, la traversa di Ripa, palla che resta lì, Franchi può provare la conclusione non lo serve Lombari che alza la testa, la mette dentro, Ripa non ci arriva in spaccata si era ventato sul secondo palo Ciccio Ripa tanti movimenti in area di rigore, si allontana Fazio, Van Zan morbido sul secondo palo Yoyo di testa, Cristian, Yoyo 1 a 0 al trentesimo del primo tempo il campo basso in vantaggio Fazio col sinistro cerca l'imbucata in area di rigore, anticipato Ripa la conclusione di Ripa, Roncone Colombo l'attraversione di Colombo, Ripa il controllo di Ripa, col destro Ripa, Roncone Franchi la mette dentro per Lombari, attenzione Lombari può provare con il mancino la conclusione di Lombari, arriva sul secondo palo il pallone con Ripa, la rimette dentro Ripa Franchi davanti alla porta Franchi, non riesce a colpirla Lombari il pallone arriva per Tordella, attenzione in area di rigore, la mette dentro Van Zan di testa, Roncone Roncone salva ancora il risultato prima di Martino, ancora Martino attaccato da Lombari Fazio, Albino Fazio la conclusione di Fazio Colombo, recupera questo pallone, buona la sfera per Potenza Potenza, ancora Potenza in area di rigore si trova il pallone, dietro Potenza allontanato ma resta il campo basso con Van Zan Van Zan il tocco per Ciccio Ripa attaccato da due, Ripa messo giù, non c'è fallo poi Tordella si infila Tordella pallone per Lombari, col sinistro Lombari Andrea Lombari questa volta fa centro Lombari al ventiquattresimo il raddoppio del campo basso fronteggiato da Cascione se la porta sul destro Famiano che prova la conclusione a girare Di Rienzo sicurissimo non c'è più tempo finisce qui il campo basso e spugna anche il Marchese del Prete con le reti di Lombari è Yoyo grazie a tutti 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 grazie a tutti